Lo facciamo per i ragazzi di questa città e essere riconosciuti soprattutto dalle istituzioni come un'organizzazione, un'associazione che sta portando avanti un buon lavoro perché lo stiamo facendo grazie all'aiuto di tanti, all'aiuto di tutti, aziende, singoli, ragazzi, perché organizziamo manifestazioni in cui ci sono 70 volontari quindi questo è un gran successo e speriamo che, come dicevo, abbiamo preso l'impegno con il Bimbo Days di allargare il nostro target quindi ora ci rivolgiamo prevalentemente ai ragazzi post studio, in questo caso è giusto anche pensare anche più piccoli e stradarli soprattutto nella formazione in cui crediamo tanto, quindi a breve stabiliremo tra quello che hanno devoluto loro e altri soldi che metteremo noi come associazione per aiutare qualche ragazzo magari, che ne so, a perfezionare l'inglese a colmare delle lacune per far sì che possa essere sempre al passo perché i nostri figli dobbiamo, come dire, seguire e aiutare e devono avere tutti le stesse possibilità. Grazie Grazie Grazie